bella rega siamo tornati dopo una settimana intera allora io mi ricordo un cazzo vediamo qua che è successo se c'era qualcuno tipo camacho però non c'è il nome è il numero non c'è il numero e quindi questo andrà via non c'è nessuno il numero quante stagione non mi ricordo se l'osservatore stava ok perfetto andiamo avanti la prossima con il bormoth allora qui ha finito si in spagna ha finito il resoconto vediamo se ci ha trovato qualcuno credo sastre bono casas bono però dei campioni qua eccolo planas bono planas tutti l'artelieri vi odiamo e adesso dove lo mandiamo a questo ramo arriva di spagna se li stiamo a fa tutti gli stati ramo arriva di spagna quindi la spa in italia allora andiamo a vedere planas casas 57 una merda una vera merda però direi manco questo il numero c'ha sastre manco questo niente è proprio un bug del gioco planas se nemmeno niente questi bisogna vennerli tutti in scanner numero sulla maglietta allora questo da cc lo facciamo diventare lo facciamo diventare tre quartista vediamo se sale un po sastre lo facciamo diventare esterno l'esterno destro pure se non salire da una virgola sicuramente e planas planas porco due planas lo facciamo diventare o esterno o mediano tipo difesa faride e vabbè esterno destro o mediano e fino a qui tutto a posto poi minieri è diventato tre quartista lo facciamo allenare come regista avanzato perché c'ho pure bei piedini e andiamo a fare questa col bormoth so quinti va bene così aspetta aspetta prima che mi scordo prima che mi scordo camacho lista trasferimenti perché come avevamo detto chi esce dalla primavera senza numero deve essere ceduto un bug del cazzo però che tocca fa è così condizioni metri ottimali cielo sereno temperatura ideale per una partita di calcio bentornati sulla frequenza di e sports da parte di nuovo la cifra ti sto schiaffi che però però così non ci vedo un cazzo allora impostazioni di gioco selevisiva dinamica classica oh adesso si bravissimo da chiaga come al solito chiaga è un pezzo di legno proprio ma questo due sta veramente facendo il gol dell'anno ma è Valerio Marco Cassetti no era il carriero non era Cassetti mi importa che partono il controviede iniziali l'impressione che ho Lele è che ci porteremo a lungo con noi questo equilibrio mamma mia che culo che bucio di culo bravo Daniele mamma mia mamma mia super Daniele super parata da pochi passi è riuscito a salvare Pier l'avevo vista già dentro ti dico la verità non so come abbia fatto toglierla dalla porta brutto rinvio attenzione c'è ancora la possibilità approvato di testa pallone che si è appallonato fino adesso attenzione perché cambia la situazione a Carroll Road andiamo a sentire le novità prima rete della partita per il Norwich si sblocca dunque il match 1 a 0 guarda io che ne ha toccato un pallone mamma mia che pallone che gli ha messo guarda Raja guarda Raja che ha fatto male male Raja e che culo però e che bugio del culo Jalman ah ma che ma che ha fatto si avvicina all'area buona qui la circolazione la deviazione è sul palo ma che si da lo tirano lo tirano attenzione da un'occhiata in mezzo attenzione si avventa e spazza mia dai Vigo aumentano l'intensità del pressing bravo dai la minieri buona per Valerio prosegue la sua azione la mette in mezzo è bello Valerio ottio Stefano di pochissimo dai ragazzi ti vuoi riprendere è buona bellissimo chi è Marco è Marchetto Cassetti è Marchetto Cassetti finalmente di aperta va bene va benissimo tu cazzo vai con Marchetto Cassetti che sta su tutti i palloni oggi vai Valerio vai Vigo vai braterie mamma mia Vigo Vigorelli non può sbagliare il giocatore più prolifico del gioco fai il verme a quanto sa Vigo a quota 11 se non ricordo male a quota 8 oh no ma siamo con il risultato di 2 a 1 di aperta definitivamente c'è un minuto ancora da giocare credibile abbiamo iniziato anche con con Rosi Minieri e Filocamo abbiamo iniziato anche una serie del Pro Club abbiamo creato abbiamo creato dei giocatori tipo io c'ho io c'ho Totti Sergio Rosi c'ha 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 Cassano Matteo c'ha Arciavin e Minieri c'ha Montella abbiamo iniziato il Pro Club non perdete lo trovate sulla playlist dopo che sul cronometro sono trascorsi i 48 minuti grazie dunque per il tuo giornale c'è veramente da ride ragazzi c'è veramente da ride perché Matteo non la passa mai e io bestemmio sbrocco andatevi a vedere i video mamma mia Marchetto Cassetti sta su tutti i palloni oggi dai che acquisto pure chi era si è abbassato anche l'ingaggio per poter giocare oddio Sergio non va ma che cazzo dice cosa dice Adani gli bloccano le fonti di gioco vediamo se il tecnico deciderà di adottare una strategia diversa magari cambiando anche posizione a qualche giocatore perché altrimenti è difficile che possano raddrizzarla no per pochissima parco addisci cambi cambi allora Warner Warner entra al posto di Chiaga Migorelli 81 porca puttana Rajan ha toccato un pallone Kelly non può entrare perché non c'ha più il numero facciamo facciamo così Minieri trequartista che c'è diventato Chiaga al posto di Lame no però panci volevo entrare panci alla prossima panci dai doppietta di Yalman un gol importantissimo che concede una nuova parità è davvero una partita incredibile ma Orise vai vi go bravo Vico per un pelin da figa vai ragazzi mamma mia che ha preso si arrabbia infatti Daniele si arrabbia con Max S e con Kier occhio al corner bravo Filippo vai Lame che ce l'hai vola Lame vola Lame è bella qui per Vico vai Vico fulminalo ma che cazzo hai fatto ma che hai fatto guarda la madonna Così no così no ragazzi dobbiamo essere più concreti sottoporta ce ne parla del Bormuz una parata incredibile mamma mia Daniele è mio c'è il cambio in arrivo sceglie il fraseggio Belling lo vede fischia l'arbitro per una posizione irregolare ma lascia continua ma gioia il pallone porco Dio scopriati insieme la prossima gara che potrete seguire come sempre in diretta su IATV mi piace il calcio volete vedere giocate spettacolari tanti gol sapete cosa fare è il Barcellona 5 al termine parità assoluta Cook Cook Adam Smith non si accontentano nel pareggio adesso vogliono vincere la partita azione che sfuma pallone che torna agli avversari nulla da fare è buona è buona vigorelli al davantesimo al volo di sinistro esplode lo stadio incredibile intelligentissimo però il passaggio di di carriero bravo qui lame a non tirare mamma mia di sforbiciata di sinistra quota 9 pico va benissimo così tutti in difesa ragazzi e andiamo e andiamo vediamo il peggiore peggiore che non penso ci sarà invece si chiaga 5.6 maxs 5.6 la prossima una salta maxs alla prossima ragazzi